allora due unboxing misteriosi mi servivano queste scatole non so cosa contengono vediamo un po vedete qui che c'era un foglio di carta che dice sumo moto che roba forse roba per la moto sono tutte cose per la copro vedete attacchi per per attaccare la copro tutti colorati da rosso giallo verde blu e relativa e relativo tappettino va bene passiamo all'unboxing numero 2 vediamo che cosa c'è qui eccoci è so con una mano sola quindi tagliato con le forbici vediamo che cosa c'è perché ecco un alimentatore esterno vedete power bank power bank quindi qui si preme parte il 98 per cento e carica già e c'è la bellezza di ragazzi 9.000 milliampere 9.000 qui l'attacco e quindi qua posso caricare contemporaneamente con quell'attacco una telefono normale un ipad vecchio stampo e un ipad nuovo stampo che figata ragazzi ipad iphone nuovo stampo vediamo un po qui c'ho due uscite c'ho due uscite una 2 ampere quindi per il mio telefono che due ampere un ampere per le cose insomma già comunque più di 500 mili comunque progettata e in e in qui la ricarico con usb normale ragazzi che figata questa mano pure dimenticata di averla comprata grazie a tutti